È una ferita che rimarrà aperta per sempre, il bene è privato da sempre. Ho fatto un'ordinanza l'11 dicembre chiedendo alla proprietaria di metterla in sicurezza perché la torre stava un po' cadendo a pezzi in parole povere, mi ha assicurato che avrebbe fatto tutto il possibile per salvarla, non solo nella mia ordinanza ci sono delle precise prescrizioni con riferimenti alla sovrintendenza, con riferimenti anche al piano regolatore e tutto, soltanto che non è stato rispettato nulla della mia ordinanza e ieri mi hanno chiamato dei cittadini, in tre minuti la torre è praticamente stata demolita. Per terra c'erano tracce di cingolato, erano già avvicinati oppure è successo qualcosa altro? Io stamattina stesso ho mandato a tutti gli uffici, al protocollo generale, alla polizia locale chiedendo se fosse mai arrivata qualche nota della proprietaria per l'inizio dei lavori. Ad oggi non ci risulta nessuna nota con l'inizio dei lavori, quindi niente è stato rispettato della mia ordinanza e stamattina presenterò formale denuncia ai carabinieri per il danno che è stato fatto. Sicuramente non mi fermerò davanti a niente, non è pensabile un'azione del genere senza alcun criterio, quindi gli ha sbagliato, state tranquilli che pagherà. La dittatice non era mandati a mettere un po' in sicurezza, però avvicinandoci col cingolato è venuto giù perché era troppo fragile. Io sono abituato sempre a non partire in... tutti sono colpevoli, però sicuramente qualcosa è successo e non voglio dare ad oggi, ad oggi è troppo presto per individuare il colpevole, sicuramente farò una ricerca accurata e dopo questa ricerca accurata negli uffici comunali stamattina stesso andrò dai carabinieri a spiegare tutti i fatti protocollando tutte le mie note e soltanto una nota di riscontro della signora che appunto diceva che... dove si parlava esclusivamente della messa in sicurezza. Dalla messa in sicurezza alla demolizione è un passaggio molto forte e sicuramente non risparmieremo nessuno sia in sede penale che civile.